Allora io prometto ai concittadini mazzaresi veramente perché da questa volta noi creiamo veramente un passaggio dal benessere alla rivoluzione, dal benessere alla rivoluzione, dal benessere alla rivoluzione, alla rivoluzione, alla rivoluzione. Con le navi, 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 con le navi. Però noi vogliamo un'idramora che è praticamente il cerdì in betonnarella di sabbia, quindi con la migliore sabbia del mondo, molto fina e quindi creare un passaggio molto turistico che praticamente ci permette a noi di far entrare anche al porto di Mazzara del Ballo, che io lavoro con le navi. Con le navi, 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 con le navi. Con le navi, con le navi, con le navi. Con le navi, con le navi, con le navi. Con le navi, con le navi. Con le navi, con le navi. Con le navi, con le navi, con le navi. Ciao, un bacione, è l'amico mio